Annalisa Piermatè, comune di Catignano, questa bella iniziativa nell'ambito della giornata europea del patrimonio tiene a sottolineare il fatto che Catignano ha davvero una storia da raccontare. Sì, Catignano ha tante storie da raccontare. Questa è una delle tante, il Neolitico che è veramente importantissimo per il nostro paese. Noi abbiamo la cultura di Catignano, quindi bisogna che le nuove generazioni vengano a conoscenza di questo perché la cultura di Catignano in archeologia è nota, viene studiata da molti archeologi ma spesso i paesi non sanno la vera ricchezza che hanno. Quindi il nostro dovere da amministratori è quello di far conoscere tutte le peculiarità di Catignano e soprattutto questa del Neolitico. Catignano è il centro, come baricentro dell'attività culturale, motivo di interesse anche in prospettiva futura. Assolutamente, noi puntiamo molto sulla cultura, puntiamo sull'archeologia in particolare perché pensiamo che possa essere volano di tante iniziative atte a ripopolare questo paese che come tutti i paesi dell'entroterra purtroppo subiscono lo spopolamento. Quindi portare gente, fare in modo che le attività possano fruire di questo beneficio non può che far bene a Catignano ma a tutti i paesi dell'entroterra quindi il mio motto è sempre quello di portare a Catignano ma in tutta la Valle Nora perché tutti i comuni hanno delle bellezze e delle peculiarità da far scoprire e quindi spero che tutti i sindaci possano essere uniti in rete perché è solo con la rete che si va avanti per far conoscere a tutti le bellezze dell'entroterra perché non esiste solo Pescara e solo la costa ma esiste anche la collina che è meravigliosa. Catignano può davvero raccontare la storia del territorio. Anna Dionizio, archeologa della sovrintendenza regionale è una manifestazione molto importante perché Catignano diventa baricentro di tanti interessi culturali. Sì, basta pensare alla peculiarità della cultura neolitica di Catignano. Catignano fondamentalmente ha un tipo di cultura di produzione ceramica ma anche una tipologia di insediamento che è unica. Si ritrova in alcuni siti qui intorno ma comunque ha delle caratteristiche molto marcate per esempio la ceramica figulina a bande rosse è qualcosa che ritroviamo fondamentalmente soltanto nel contesto della cultura di Catignano. Che cosa può rappresentare questo convento ex San Francesco di Catignano per l'intero comprensorio ma soprattutto per la regione Abruzzo? Allora, questo convento è stato ristrutturato per volere dell'amministrazione comunale con un occhio di riguardo anche per la futura destinazione a deposito dei materiali. Infatti noi adesso lo abbiamo trasformato in deposito di materiali archeologici provinciali e all'interno sogniamo e stiamo pian piano realizzando il deposito di tutto il comprensorio quindi della Vallata della Nora, Catignano naturalmente, Nocciano, Rosciano, Cepagatti potrà diventare veramente trampolino di lancio, un propulsore per le attività culturali. Oltretutto qui ci sono vari locali, per esempio questo bellissimo auditorium che possono essere utilizzati anche per convegni, attività culturali in senso lato ci sono locali che potranno essere utilizzati in caso di una futura ripresa degli scavi e insomma noi aspettiamo veramente tanto, ci aspettiamo grandi cose da Catignano. Tra gli oggetti e reperti portati alla luce c'è qualcosa che la sorpresa a lei che ha ormai tanta esperienza nel settore? Sorpresa? Intanto alcuni vasi che abbiamo mostrato prima che sono già restaurati ma vederli dal vivo è emozionante proprio perché parlano della cura con cui sono stati realizzati e poi fra l'altro sì un oggetto che oggi mi ha sorpresa è stato un ercolino di bronzo che è stato portato qui proprio da una persona che lo ha trovato fuori contesto che l'ha segnalata immediatamente a noi come la legge prevede ci parla di tante cose anche del culto che c'era qui nella religiosità nell'antichità il fatto che qui probabilmente c'era un culto di Ercole che è una divinità complessa legata al commercio, ai trasporti quindi una realtà viva doveva essere questa una realtà in cui si viaggiava, si commerciava e c'era veramente anche un grande senso religioso Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio l'ex convento di San Francesco a Catignano diventa un punto di riferimento per diversi comuni del comprensorio lo chiediamo all'archeologo Andrea Staffa Sì è una bellissima iniziativa organizzata al Comune Catignano e della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per le Provinci di Pescara oggi valorosamente diretta da Cristina Collettini che vuole porre, richiamare l'attenzione della gente una riorganizzazione del territorio per cui materiale archeologico a tanti anni di scavi come richiamava giustamente lei da tutti i comuni della Vallata del Nora sono stati finalmente destinati a un deposto archeologico provinciale che è oggi ospitato qui nella sede del Convento di San Francesco di Catignano oggetto di importanti lavori di recupero da parte del Comune è una scelta strategica vuol dire portare questo patrimonio culturale vicino alle comunità poterlo utilizzare come strumento per l'attività didattica delle scuole e soprattutto qui a Catignano mirare a quel grande museo del Neolitico Italiano che è un obiettivo di tanti anni di scavo dell'Università di Pisa e lì ecco vediamo al secondo grande aspetto l'iniziativa di oggi promossa appunto dal Comune dall'assessore Analisa Piermattei vuole puntare l'attenzione sul fatto che Catignano è noto in Europa perché il suo scavo così importante condotto all'Università di Pisa diretto dall'amico Carlo Tozzi ha aperto un enorme faro su uno degli abitati neolitici più importanti in Italia che ha dato nome alla cultura di Catignano Scaloria Bassa che è una delle culture del Neolitico europeo qualcosa di cui l'Abruzzo deve essere orgoglioso infatti l'obiettivo è adesso quello di creare qui un grande museo del Neolitico ma già il deposto diventa un punto di riferimento verrà realizzato un laboratorio è stata resa nuovamente visitabile l'area archeologica Neolitica una delle poche aree archeologiche di questo periodo che è veramente molto importante quindi veramente un'iniziativa di grande importanza è un punto d'arrivo da una parte è un punto di ripartenza per nuove importanti iniziative per riportare Catignano al centro degli attrattori culturali e turistici della nostra bella provincia di Pescara grazie a tutti